L'esempio di San Candido è la dimostrazione che volere è potere. Una trentina emigranti accolti, integrati nella società e con un posto di lavoro. Prendendo spunto dal vertice della scorsa settimana a Dinsbruck, proprio sui richiedenti asilo, il presidente della provincia di Bolzano ha evidenziato, con dati alla mano, che gli arrivi anche in Alto Adige sono in calo. La politica adottata negli ultimi mesi e anni inizia a dare i suoi frutti. Per quanto riguarda la nostra provincia, abbiamo in tutto 1.370 richiedenti asilo sul territorio, ripeto, sottolineo, non arrivati quest'anno o l'ultimo anno, in tutto. È il numero complessivo delle persone che si trovano in questo status, cioè nei vari stati si è già ricevuta una risposta, non ancora, appena è iniziata la procedura. In tutto sono 1.370 persone, di cui 120 minorenni. Questa cifra è il 19,5% in meno del 2017, cioè il numero totale è diminuito. La Giunta Provinciale ha approvato la pubblicazione del nuovo bando per la mobilità internazionale di ricercatori e ricercatrici. Disponibili 880 mila euro in tre anni per professionisti di istituti altotesini ed esteri. Potremmo chiamare un Erasmus sul Tirolese, dove diamo la possibilità ai giovani ricercatori, e non solo ai giovani, di lavorare presso istituti europei per specializzarsi ancora, per far parte a progetti interessanti e poi riportare queste conoscenze anche in Alto Adice. Per partecipare al nuovo bando occorre presentare un progetto di ricerca. Sono previsti importi generalmente compresi tra i 40 e i 170 mila euro all'anno, a seconda della durata del progetto e del periodo da trascorrere all'estero. Il bando è a disposizione sul sito del Servizio Ricerca Scientifica della provincia autonoma di Bolzano.